E' stata una bella cosa per me. Io sono anni che volevo vincere la Coppa del Mondo. L'anno scorso ci sono arrivato vicino e l'ho persa per tre punti, anche con un regolamento particolare. Nel 2005 ero ancora secondo e dopo sempre ero i migliori cinque. Non sono mai riuscito a portarla a casa. Quest'anno mi sono impuntato, ho voluto vincerla e con un buon lavoro, con il mio tecnico, con la forestale, siamo riusciti a prepararla bene. Partendo già in Australia con la prima prova che ho vinto e con le prove poi in Europa, insomma, sono riuscito a dare un distacco di oltre una gara al secondo. Quindi è andata davvero bene la grande. Una sveglia intorno alle sei e mezza perché mi piace svegliarmi presto col sole. Una colazione verso le sette e dopo un'oretta vado scendo in acqua per il primo allenamento, intorno alle due ore, due ore e mezza. Poi torno a casa, mi cucino il pranzo, riposo un po', poi scendo di nuovo in barca o vado in palestra per il secondo allenamento. La sera, se ho tempo, riesco anche a studiare qualcosa per l'università, anche se, insomma, quella va a rilento a confronto alla canoa. E' stato un vantaggio perché il mio primo club è stato a Cordenons. C'è il tecnico Mauro Baron che mi ha seguito i primi anni, mi ha insegnato davvero tutto quello che so, me l'ha insegnato lui e sono riuscito a creare un metodo vincente grazie ai suoi insegnamenti. Quindi da questo punto di vista mi è servito molto e è stato fortunato. Un po' sfortunato invece per quanto riguarda il fiume, perché il noncello che mi sta nel cuore però è diventata una palestra un po' piccola per le mie esigenze di adesso. Beh, intanto prossimo anno ci sarà la qualificazione all'Olimpiadi che è fondamentale, senza quella niente è Londra, quindi ho ancora dei step da fare. Prossimo anno quindi ci saranno i mondiali fondamentali e dopo da lì partirà l'avventura olimpica per Londra. Ho visto il percorso, non sarà come Pechino esagerato, quindi sarà molto più umana come gara. In un percorso come gli standard europei, dove di solito faccio belle gare. Mi sto già impegnando per quella gara, nel senso che la programmazione è già partita per Londra. Sono seguito dallo staff migliore in Italia, che è lo staff della forestale, quindi sono davvero in buone mani. Metto tanto di mio, ma proprio tanto. Se qualcuno vuole darmi una mano, poi insomma, deve sempre bene accetta. Sì, è uno sport considerato minore, no? Anche se portiamo, almeno quest'anno io la Coppa del Mondo l'ho vinta al calcio, no? Quindi almeno per quest'anno posso dire che la pagnotta l'ho meritata, no? Però sì, dai media, insomma, è visto un po' minore, quindi anche gli sponsor sono un po' meno interessati. Non è certo minore l'impegno che noi atleti ci mettiamo, anzi. Soprattutto continuo a ringraziare la forestale, perché senza di loro, senza la paghetta mensile loro, non riuscirei davvero a fare niente, perché investo soprattutto grazie a questi soldi, investo sulla mia attività estra, insomma, estra nazionale, tutto quello che ci sta dietro, insomma. Io ho conosciuto Michele Roveredo pochi mesi fa, anzi un mese fa esatto, quando abbiamo fatto una conferenza a Sacile. Mi ha davvero colpito la sua lunghissima corsa per la madre e quindi mi sono anche interessato alla cosa. Poi in questi giorni ho avuto un invito per il 5 settembre in piazza a Cordenons, dove ci sarà la presentazione di un progetto davvero stupendo che coinvolge tutta la nostra nazione, di una corsa a tappe davvero importante, una raccolta fondi fondamentale. Io sarò in Slovenia per preparare i mondiali, però forse, essendo la Slovenia abbastanza vicina, proverò a venire e spero anche con la mia presenza portare qualche persona in più che possa dare un contributo a questa manifestazione importante.